Assessore Mascia, da oggi tornano a pagamento i parcheggi nella città di Pescara, da mercoledì 3 giugno torneranno anche le ZTL. Sì, lo avevamo annunciato e avevamo già prorogato per tutto il mese di maggio le misure che erano state adottate il 12 marzo con ordinanza del sindaco e poi bisogna tornare alla normalità. Io credo che psicologicamente sia importante tornare alla normalità, è importante perché questo incentiverà le persone comunque a riprendere la propria vita, ad aumentare i consumi, comunque al di là ovviamente delle difficoltà economiche enormi che ciascuna famiglia può avere, però dobbiamo respirare un'aria diversa. Questo è il mio punto di vista, sempre con le misure di prevenzione che sono necessarie affinché non si ritorni nell'incubo che abbiamo vissuto per due mesi, ma l'importante è che si respiri non l'aria della precarietà ma l'aria della normalità. Ed è questo il motivo per cui comunque oggi abbiamo reintrodotto i parcheggi a pagamento, però con una misura anche agevolata per chi aveva rinnovato l'abbonamento a marzo, che è giusto, possa fruire di un tempo in più e quindi per tutto il mese di giugno sostanzialmente verranno prorogati quegli abbonamenti e la preoccupazione arriverà alla fine di giugno per i rinnovi successivi. È iniziata praticamente l'estate, state già pensando per le prossime settimane qualche misura per quanto riguarda i parcheggi a ridosso degli stabilimenti balneari delle riviere? Sì, ho letto già qualche polemica di qualcuno che si preoccupava già dell'utilizzo della strada parco. Dal punto di vista della strada parco la preoccupazione è prematura perché dobbiamo verificare qual è l'andamento e l'approccio che si avrà nei confronti dell'estate. Io mi auguro che comunque si possa utilizzare il nostro mare in tranquillità rispettando tutte le prescrizioni che le leggi impongono. Però abbiamo già comunque in pancia una misura importante che è il parcheggio sull'area nord che potrà consentire a 250 circa pescaresi e non pescaresi di poter avere finalmente grazie all'iniziativa del sindaco Masci tutta sua di abbattere manufatti ormai abbandonati e ricovero di senza tetto abbiamo invece oggi un'area davvero di pregio in cui parcheggiare in tranquillità. Poi vedremo nel mese di luglio qual è l'andamento dell'estate e adotteremo le misure conseguenti. Stessa cosa anche per i parcheggi a sud della città, i tradizionali parcheggi estivi. Io proprio la settimana prossima avrò un incontro con Pescara Multiservice e valuteremo tutte le misure necessarie da adottare per rendere la vita più facile ai pescaresi, per rendere soprattutto per le attività produttive un'opportunità per poter comunque riemergere da questa crisi senza precedenti.